La penicillina è il primo antibiotico scoperto, nel 1928, da Alexander Fleming. È un gruppo di antibiotici beta-lattamici derivati da funghi del genere penicillium. La penicillina agisce interferendo con la sintesi della parete cellulare batterica, indebolendo e uccidendo i batteri. È efficace contro una vasta gamma di batteri gram-positivi, come streptococchi e stafilococchi. La penicillina ha rivoluzionato la medicina, salvando innumerevoli vite. Tuttavia, l'uso eccessivo ha contribuito alla resistenza batterica, spingendo gli sviluppatori a creare varianti più potenti, come gli antibiotici a base di amoxicillina o ampicillina. La scoperta della penicillina ha gettato le basi per lo sviluppo di numerosi altri antibiotici e ha aperto la strada alla terapia antimicrobica moderna.